Un'Italia sconosciuta a molti, quella dei luoghi abbandonati, è documentata corattamente dall'occhio attento della fotografa e artista Silvia Camporesi. Presentata a Forlì, Atlas Italia è l'ultimo lavoro della Camporesi, non solo un libro fotografico, ma anche un lungo lavoro di ricerca che comprende tutte le regioni italiane. Alla ricerca delle strutture è lasciata a se stesse, luoghi affaticenti ma pieni di un fascino particolare e che raccontano la storia di un'Italia dimenticata. Dimenticata, da dove è nato questo progetto? È nato da un'accordata di collezionisti che hanno promosso questa iniziativa di viaggio in Italia per le 20 regioni alla ricerca dei paesi abbandonati. Qual è la filosofia che sta dietro alle foto che hai scattato e che sono finite in questo progetto del libro? È l'idea di trovare dei luoghi che abbiano ancora una memoria, un residuo di storia di chi li ha abitati e quindi di vedere questi luoghi ma anche di vivere le sensazioni di chi c'è stato e che ora ha lasciato questi posti. Tanti luoghi ma anche tanti anedoti, c'è qualcosa che ci vuoi raccontare, che vuoi condividere con noi? Sicuramente un viaggio di ritorno dall'isola di Pianosa che è un'isola attualmente in stato di semiabbandono a causa di un mare molto mosso, un viaggio fatto con i detenuti nella navetta della polizia penitenziaria perché altrimenti non sarei potuta tornare in altro modo. Qualche foto che rimane la preferita? Sicuramente la foto della nave ristorante di Genga nelle Marche, una nave da crociera portata su un monte, trasformata in un ristorante e poi abbandonata. Un progetto in crescita o un progetto finito? Un progetto finito e adesso inizierò un nuovo lavoro sempre legato all'Italia ma di tutt'altra natura, non riguardante il paesaggio ma più alcune figure particolari italiane.